Eccoci tornati live sulle fonti tv dopo il nostro spazio dedicato a tutti gli approfondimenti siamo qui con voi ancora per seguire i mercati e ripartiamo proprio dai mercati europei in attesa poi dell'apertura di Wall Street. Questa è la penultima seduta dell'anno 2021 mercati che stanno oggi quelli europei naturalmente come detto mostrando un po' di debolezza probabilmente più che debolezza è la stanchezza dopo l'abbiamo detto anche in altri slot di diretta dopo questo anno sicuramente straordinario. Ecco qui il nostro indice principale il Futsimib che lascia sul parterre in questo momento lo 0,75% l'apertura è stata negativa fin dalle prime battute della seduta ma non è l'unico listino a riportare il risultato in rosso perché anche il CAC di Parigi cede lo 0,21 come vedete e non solo anche l'Ibex di Madrid tutti sostanzialmente sono in territorio negativo. L'Ibex di Madrid meno 0,46 e anche il DAX di Francoforte cede lo 0,49% e allora appunto questi listini principali sono negativi. Vediamo solo uno sguardo velocemente allo spread giusto prima di ripartire con i nostri ospiti il differenziale tra BTP e BUNDA è ancora in rialzo 134 punti base 0,82% e il rendimento del decennale italiano è pari all'1,11 con un rialzo dell'1,54%. Euro-dollaro vediamo un po' il cambio che seguiamo sempre con attenzione meno 0,11 abbiamo ancora un leggero indebolimento dell'euro che va tentato di risalire nei confronti del biglietto verde quindi va tentato un leggero ritracciamento ma in questo momento si posiziona ancora sotto la parità meno 0,10% il cambio appunto è 1,12,97. Direi che possiamo fermarci qui ecco il dollar index possiamo vedere poi dicevo poi diamo la voce ai nostri ospiti e poi naturalmente torniamo 96,25 con un rialzo dello 0,11% allora a proposito di dollaro strategia con le opzioni americane quando parliamo di strategia con le opzioni americane di chi parliamo di Nello Sgambato che saluto e che ritroviamo qui sulle fonti tv ciao Nello buongiorno con tutte le luci natalizie alle tue spalle Sì dai vediamo che porti un po' di fortuna e mai così poi quando vedremo questo video a distanza di tempo ci ricorderemo i momenti di Natale Ciao a te, buongiorno Poi ci sta, ci sta, noi nello studio non ce l'abbiamo perché manteniamo sempre come dire un'impostazione di aula di contrattazioni mettiamola così però assolutamente voi è anche bello che ci rimandiate la fotografia dei vostri luoghi con i simboli del Natale Allora Nello intanto ti chiedo come al solito una panoramica dei mercati proprio anche basandoci sul fatto che è la penultima seduta dell'anno Sì come dicevi tu in apertura e questo è stato un anno straordinario dal punto di vista appunto del mercato azionario nello specifico anche americano C'è stato un lungo trend rialzista tranne qualche piccolo ritracciamento che comunque a mio avviso essendo un opzionista ritengo cosa buona e giusta che ci siano dei ritracciamenti ogni tanto in modo che possa questo aumentare la volatilità andando a gonfiare i premi delle opzioni appunto Certo e il mercato delle opzioni com'è in questo momento? Allora la volatilità dopo mesi di così di calma piatta ha cominciato a tornare su vari titoli e anche sugli indici non è ancora la volatilità che mi aspetto io sono ancora in attesa di un ritracciamento importante e secondo me questo è un vero ragionamento che l'opzionista deve avere cioè il framework è quello che prima o poi ci possa essere un tracciamento importante e quindi sia in termini di mindset sia in termini anche di strategia di investimento anche banalmente la quantità di denaro che bisogna impostare sulle varie scadenze bisogna sempre tenere conto di questo Ok allora guarda dopo ti faccio continuare siccome lo ricordiamo sempre questo spazio dedicato alle opzioni americane vuole essere un po' una via di mezzo su quella che è l'operatività infatti poi con Nello andremo a vedere alcune strategie andremo a vedere come sono andate quelle che abbiamo presentato l'ultima volta qui sulle fonti tv ma vuole essere anche un momento di formazione peraltro un po' come facciamo per tutti i nostri spazi non ci limitiamo a rivolgerci solo a chi sa già le cose perché se no il bello dove starebbe anzi vogliamo cercare e naturalmente io mi appoggio ai miei ospiti di dare la possibilità anche a chi non conosce un aspetto un settore della finanza un segmento della finanza uno strumento della finanza di poter avvicinarsi ad esso e quindi dicevo anche formazione perciò parto subito con questa domanda che peraltro penso si accodi un po' anche a quello che ti ho chiesto io cioè di fare una panoramica del mercato e del mercato delle opzioni in questo momento allora Roberto ti chiede da metà settembre gli indici si muovono un po' nervosamente con veloci cambi di direzione forse siamo in una fase di mercato laterale intanto conferma se è così anche per te però la domanda è questa come consigli di operare o di non operare con le opzioni quindi partendo da questa situazione di mercato si sono d'accordo con Roberto dopo alcuni mesi appunto come dicevo di calma piatta ritengo che ci sia un po' di nervosismo nell'ultimo trimestre ma questo io lo interpreto come un lato positivo proprio perché fa aumentare la volatilità e quindi ci da molte occasioni di entrare al mercato vendendo vendendo option l'incertezza comunque va interpretata sempre come un come dire come il DNA della volatilità cioè se non c'è incertezza non c'è volatilità la volatilità indica proprio questo la non certezza del futuro noi aspettando la volatilità che aumenti siamo così in attesa che ci sia un po' di incertezza all'aumentare del rischio aumentano i premi e quindi ritengo che il mercato sarà laterale non apro strategie lunghe da lunga scadenza non sto addirittura sotto il mese come poi andremo ad approfondire e diciamo che sto a mercato e sto un po' alla finestra cercando comunque di portare a casa più gain possibile perché quando c'è incertezza il mercato potrebbe sia aumentare il valore ma potrebbe anche avere un ritracciamento importante è un mercato che ritengo è un periodo in cui lo standard in corso e l'asda che stanno lateralizzando osservandolo in un macro sistema anche dal punto di vista temporale ok allora sto leggendo anche altri messaggi che stanno arrivando al nostro numero di whatsapp sono un po' più specifici quindi direi che li tengo tra un istante andiamo a vedere le strategie che ci avevi portato in diretta l'ultima puntata delle opzioni americane le ripercorriamo un attimo e ci dici come sono andate a buon fine o meno insomma ce le racconti un po' così facciamo il punto poi naturalmente abbiamo anche quelle nuove però ci arriviamo tra poco eccoci qua si dovrebbe vedere la mia fila da bella Excel dove riporto tutte le strategie che attivo nella giornata in cui vado in diretta che tu hai la volontà di chiedermi di essere tuo ospite e quindi monitoro poi con interi spettatori di volta in volta come vanno le strategie sia per spiegarle sia per anche come dire trasmettere a chi dovesse affacciarsi per la prima volta a questo mercato a questo mondo che è molto facile e molto facile una volta che si conoscono gli strumenti con le opzioni non si è in balia del mercato quindi si riesce un po' a tenere come dire sotto controllo tutta la situazione si tiene un po' il toro per le corna e infatti questa è l'ennesima volta che posso dimostrare che tutte queste strategie che avevo comunicato credo mi sembra intorno alla metà di dicembre o forse qualche giorno prima sono andate tutte in game la prima è la cover de stock, la vendita di call avendo un portafoglio al sottostante perché è fondamentale avere il sottostante perché se il titolo dovesse andare alle stelle avendo una call sell si rischia veramente tanto e quindi se si vuole vendere una call è necessario io direi obbligatorio avere il portafoglio al sottostante e siamo andati a portarci su base settimanale a casa un 3.2% che è un'enorme unità è una strategia di cui ho già parlato nelle puntate precedenti e ritengo che sia una delle più intelligenti e poi tutte le altre strategie che erano appunto nel Vertica Credible Put che è il mio cavallo da battaglia sia qui in retta sia anche nel mio studio e anche queste strategie sono andate tutte a buon fine scadenze molto brevi perché abbiamo sfruttato al massimo il teta, lo scorrere del tempo e quindi andiamo un po' a proteggerci anche nei confronti del mercato che sul lungo periodo, io considero lungo anche due mesi, possano andarci contro quindi restiamo al mercato il meno possibile sfruttando di conseguenza il teta cioè lo scorrimento del tempo ancora più che lo sgonfiamento della volatilità che a volte sulla scadenza di una settimana o due non fa in tempo a sgonfiarsi abbastanza la volatilità tanto da farla diventare nostra alleata Ecco, pensa che ti stavo proprio chiedendo ma mi hai già risposto un po' anche per ripassare questo aspetto delle opzioni, come mai le strategie che tu decidi di portare sulle fonti tv poi vediamo che vanno a buon fine, tu hai già parlato del fatto che scegli quelle che garantiscono comunque una certa protezione per chi le apre Allora sì, perché io mi rivolgo e mi piace rivolgermi ai neofiti coloro che dal mercato azionario, magari italiano, si approcciano per la prima volta o comunque all'inizio della loro esperienza da trader sul mercato americano e quindi non vado a spiegare in tv e soprattutto anche nei miei corsi strategie più speculative ma di conseguenza anche più rischiose e vado a così fare innamorare o fare un approccio soprattutto in diretta con strategie che statisticamente vanno sempre o quasi sempre in guadagno dopodiché lo studente o chi dovesse stancarsi di queste strategie avrà tutta la voglia e come dire la consapevolezza che con le opzioni si possono ottenere degli straordinari risultati sia in termini di protezione sia in termini di ROI e di gain e di percentuale di guadagno anche in brevi tempi Ok, molto chiaro Allora facciamo così, leggiamo qualche altra domanda poi naturalmente andiamo a vedere le strategie nuove della puntata Allora, Maurizio ti chiede Quasi la totalità dei formatori di opzioni propongono vari aggiustamenti della strategia durante il trade secondo la tendenza del mercato quindi fare una strategia, poi vedere come va il mercato e correggere in corsa praticamente la strategia che si è messa a punto Tu preferisci, Nello, lo stile set and forget cioè prepara e poi dimenticati di quello che hai fatto quindi non intervenire, no? Credo che sia questo nel corso della strategia Ecco, cosa preferisci fare tu? Questa è una bella domanda e peraltro non ce l'hanno mai posta perlomeno non in diretta quindi sono molto interessata anch'io Sì, sicuramente io ritengo che le opzioni siano un gioco di scacchi quindi la strategia deve essere pensata prima avendo tutti gli strumenti nella propria cassetta degli attrezzi e quindi in quel determinato periodo storico puoi entrare una settimana intendendo quella giorno, due giorni, tre giorni, una settimana dopo potrebbero cambiare gli eventi ma se in quella settimana su quell'indice, su quel sottostante, su quel titolo ci sono le condizioni favorevoli per aprire una strategia io la apro e poi me la dimentico questo è il mio mindset quindi strategia un mese, due mesi, massimo tre mesi parlando di vendita, di option devono andare a morire per ritornarci il miglior rendimento ma questo mi autoimpone anche un'analisi molto precisa e dettagliata ante l'apertura e quindi non si entra mai al mercato senza avere analizzato tutti gli aspetti soprattutto la volatilità, il teta, il sottostante la liquidità del sottostante tutti quegli indici sia finanziari che fondamentali che l'azienda ha nella propria pancia una volta ragionando in questo modo si entra in una strategia con piena consapevolezza e andando a sfruttare quegli strumenti che sono alleati straordinari del trader e quindi passare del tempo e lo sgonfiamento della volatilità in primis andiamo quasi sempre ad andare ad avere ragione è vero anche che ogni tanto ha giusto qualche posizione sinceramente perché è una piccolissima percentuale indicativamente una su 20 e una su 30 si va ad fare un'analisi pre assolutamente dettagliata però comunque non essendo matematica e vivendo in un ambito di finanza che sono due cose completamente diverse qualche strategia non va così come credevi che andasse e allora è necessario fare qualche piccolo aggiustamento ma quella deve essere l'eccezione a volte si possono anche non aggiustare le strategie perché anche se ci dovesse essere assegnati va bene lo stesso perché poi con il titolo in pancia, in portafoglio si possono effettuare altre strategie come la vendita di call eccetera quindi con le opzioni americane siamo sempre in pieno controllo di quello che succede tranne qualche piccolo momento sporadico ma che può rientrare subito anche quello come direi sotto controllo ok ok allora ti faccio un'altra domanda di un telespettatore poi cominciamo a vedere le strategie della puntata allora quando apri Nello la cover stock con la sell call quale call vendi? strike? scadenza? quale? allora intanto la premessa è che bisogna controllare la volatilità perché? perché la volatilità alta restituisce premi a parità di strike a parità di scadenze più alte quindi vado a vendere una call su un titolo devo avere un po' il portafoglio mi piace che il telespettatore dica la cover vuol dire che in portafoglio ha già 100 stocks a protezione vado a vendere il call sicuramente se la volatilità è alta perché altrimenti il premio è troppo basso su scadenze molto ravvicinate anche una settimana o due non un mese è abbastanza health the money perché va interpretata non come guadagnare di più la vendita di call sul sottostante ma una compensazione di un'eventuale un'eventuale lateralità del titolo o una sua diminuzione perché con la vendita di call non è una protezione vera e propria come con l'acquisto della put la vendita della call io lo dico anche nel mio libro lo paragono all'affitto di una casa ho la casetta che è il mio stock sono le mie 100 azioni e col passare del tempo oltre che incassare i dividendi incasso l'affitto che è la vendita di call se poi il titolo dovesse andare alle stelle questa strategia non ha più senso averla però nella stragrande maggioranza dei casi i movimenti sono laterali non sono mai e sono raramente repentini verso l'alto o verso il basso e quindi è una strategia molto premiante perché su base settimanale vado ad ottenere degli incassi grazie alla vendita di call in maniera assolutamente protetta quindi per rispondere alla domanda su scadenze brevi e at the money e non troppo out of the money perché altrimenti avrei poco incasso ok ok va bene Nello allora dopo ci sono altri messaggi ma ci arriviamo anche perché anche qui diventano ancora più specifici dunque quali sono le strategie che ci hai portato questa settimana e perché le spieghiamo insomma uno alla volta quante sono intanto? allora questa settimana sono quattro e dopo tanti mesi anche se la volatilità non è come piace a me però ho deciso di attivare due strategie sugli indici che sono degli ETF il QQQ e lo SPI SPY sono due colossi in termini di capitalizzazione sostanzialmente e anche qui come si vince dalla tabellina la scadenza è breve 12 gennaio non arrivo neanche a un mese come il mio solito guardo perché vediamo cosa dirà il mercato cosa ci propinerà con l'inizio dell'anno nuovo e quindi vado ad aprire vertical credible put sia su QQQ sia sullo SPI sulla prima vado a vendere una 387 una put mi copro con una una put 382 incasso 47 dollari ogni 453 investiti che rappresentano anche la massima perdita e se il giorno del al 12 gennaio 22 il QQQ dovesse restare sopra 386.53 avremo un ritorno del 10% che a mio avviso è tantissimo perché poi è relativo sempre anche alla scadenza più o meno lontana o vicina stesso ragionamento è quasi un copio in colla dello Standard & Poor's potremmo anche aprire solo uno di due però so che molta gente che mi segue fa ragione su QQQ altri sullo Standard & Poor's allora io l'ho messo in tabella entrambi per far contenti tutti ok certo quindi vado a vendere una 462 sempre put mi copro con una 456 incasso 40 dollari e investo 560 dollari con un break even point che è situato a 461.60 se a 12 gennaio 22 lo Standard & Poor's resta al di sopra di questi livelli avremo un ROI del 7% e poi per restare un po' in materia così della terminologia usata in questi ultimi mesi ho selezionato questo titolo NVAX oh mamma mia pure qua e vabbè ma è la parola che è stata più utilizzata nel 2021 VAX è stato definito da una statistica non che fosse non che ci stupisca perché tutti la pronunciamo ogni giorno anche nelle combinazioni varie vabbè e quindi vedi la rinominiamo ancora anche noi parlando di opzioni americane sì l'ho voluta inserire anche proprio per così in senso ironico perché non se ne può più si parla sempre di questo e allora inseriamo ecco quindi vado a vendere una 130 ma anche perché ha comunque i dati fondamentali e finanziari che sono interessanti e si prestano a questa strategia non solo per il nome no certo certo era una battuta chiaramente però insomma va bene vado a vendere una 130 mi copro con una 125 in caso 115 dollari ogni 385 e se il titolo resterà al di sopra di 2885 porteremo a casa un 29% la scadenza anche qui non vado più in là dal 14 gennaio 22 ed infine c'è l'ultima strategia di cui ho parlato anche un po' prima mi piace questa strategia o mai la sto reiterando di settimana in settimana è la cover del stock sell call dove avendo in portafoglio 100 titoli che ad oggi quotano circa 2800 dollari andremo ad incassare 98 dollari se il titolo da qua a scadenza non supererà quota lo strike 31 quindi il titolo anche se dovesse lateralizzare o salire un pochino ma non arrivare al 31 a 31 dollari avremo 98 dollari che su un investimento di 2772 pari al 3,5% questa è la strategia do una scadenza a questa strategia ancora più ravvicinata e quindi tra 10 giorni il 7 gennaio andrà a esaurirsi ok queste sono tutte le strategie esatto poi prima di salutarci le rivediamo allora altra domanda pesgambato la Merid prevede l'acquisto della put su scadenze lunghe come la imposti e ti chiedo sempre di dare dei cenni un attimino di informazione per chi non sa di cosa stiamo parlando ecco sì allora la Merid Put è l'acquisto contemporaneo di sottostante 100 stocks e l'acquisto di una put ovviamente dello stesso sottostante a protezione di un eventuale crollo del sottostante stesso quindi come per esempio l'esempio appena fatto con AMC invece di vendere una colla contemporaneamente all'acquisto del titolo compro una put allora bisogna stare attenti si chiama Merid Put proprio perché sono spesso sono sposati sottostante l'acquisto della put sono sposati e quindi si aprono contemporaneamente so che tanti opzionisti cosa fanno hanno lo stock e dopodiché se il titolo dovesse scendere comprano la put ma non va più bene perché cambia la volatilità cambiano proprio i termini essenziali della scelta di un option quindi se devo aprire una Merid devo contemporaneamente acquistare 100 stocks e comprare una put e qui dipende la scadenza dipende allora più vogliamo restare vogliamo tenere in portafoglio questo titolo vogliamo essere protetti più dobbiamo comprare a lunga quindi ipotizzando di comprare 100 stocks di che ne so dello standard in course piuttosto che dalla Apple più soft che dalla Microsoft dovrò avere necessariamente il capitale liquido necessario per comprare 100 stocks e la put della scadenza di un anno che è vero tra l'altro che è più costoso in termini assoluti ma in termini percentuali costa molto meno delle put la parità di strike su scadenze più brevi quindi vuoi tenere in portafoglio questo titolo per un anno per due anni comprati la put lunga il giorno in cui ti compri il sottostante che verosimilmente dovrebbe avere dovrebbe essere come dire soggetto a una volatilità bassa non ha senso comprare uno stock fare una merita quando la volatilità è le stelle perché costa troppo l'acquisto della put ok Nello stai attento che forse tocchi ogni tanto il microfono e si sente un po' di rumore mentre parli niente non ti preoccupare almeno così ti sentiamo meglio altra domanda c'è questo amico che ci augura buon anno quindi grazie naturalmente anche a te e a tutti voi che ci seguite Nello comprerebbe una call su Carvana lo conosci la conosci come azienda l'ho studiato un paio di settimane fa adesso non so se c'è il tempo di analizzarla sì possiamo vederla se vuoi sì ho un ricordo abbastanza positivo vediamo se riesco a collegarmi per riscarmi l'idee posso prenderla intanto anch'io ma comunque poi quando ce l'hai condividi tu così ti vediamo ecco qua questo è Carvana rivenditori di auto usate online con sede in Arizona ok esatto sì mi guardi il ticker per favore certamente allora Como Verona Napoli e A GVNA no GVNA ah scusa niente N di Napoli d'accordo vediamo se mi fa collegare Carvana certo intanto noi la stiamo guardando sul mio grafico vediamo di dare di fare un'analisi veloce l'azienda rivenditore di auto usate online in più rapida crescita negli Stati Uniti ed è nota per i suoi distributori automatici di auto a più piani quindi questa è anche un po' la particolarità dell'azienda diamo anche qualche riferimento insomma per chi non conoscesse appunto l'azienda sì eccoci qua allora la domanda era se avrei comprato una call sì nello comprerebbe una call su Carvana esatto allora da una veloce analisi grafica ritengo che ci possa essere lo spazio per una risalita ecco è necessario controllare la volatilità e se dovesse rientrare sotto la propria media su un time frame direi di un anno vedrei un acquisto di una call c'è stato così un movimento repentino nell'ultimo mese la volatilità non è proprio bassa come piace a me quindi di conseguenza o in questo caso ma ripeto dovrei approfondire meglio lo studio o aprirei una call molto lunga che andrei a così andare a contrastare il teta sicuramente nel dubbio aprirei un vertical a debito con una call dove andrei per esempio a vendere una 250 mi coprirei con una buy call immediatamente sotto lo track 250 e quindi qui la scadenza potrebbe essere meno importante e andrei a aprire un vertical su scadenza due o tre mesi però si se la volatilità è relativamente bassa rispetto alla propria media andrei ad aprire una call un anno sì ok allora nello rimostriamo ai nostri amici le strategie di oggi così le ripercorriamo più velocemente e poi naturalmente come sempre facciamo nella prossima puntata andremo a vedere come sono andate eccoci qua si vede la mia tabellina sì sono in conclusione ok e quindi apro tre vertical credible put che sono quelle strategie che statisticamente sono quelle che portano sempre quasi sempre l'operatore in gain e quindi vado ad operare sugli indici QQQ o SPY e inseriamo anche il titolo NVAX vado a rendere delle put mi copro immediatamente allo strike sotto con le buy e vado ad incassare 10 7 29 su QQQ su SPY e NVAX sono tutte scadenze molto brevi perché ancora non riesco a dare un'interpretazione a medio lungo termine dell'andamento del mercato ecco sicuramente se fossi un non opzionista ma un operatore di stock se non andrei a comprare grosse quantità in un mercato del genere e poi l'ultimo titolo l'ultima sì l'ultima strategia è la cover stock con la vendita di colla su AMC che anche per chi dovesse approcciarsi per le prime volte credo sia una strategia molto molto interessante ok va bene Nello allora queste sono le strategie della puntata ringraziamo anche gli amici che hanno scritto che naturalmente possono contattarti direttamente Nello poi ci risentiamo naturalmente con il 2022 ti auguro buon anno grazie buon anno anche a te alla regia e a tutti i telespettatori ci vediamo nel 2022 assolutamente sì grazie Nello Sgambato che vi aspetta naturalmente per approfondire questi temi che vi aspetta